La trasferta del Barcellona è pazzesca, squadra viaggia con gli elicotteri. Barcellona trasferta particolare per il Barcellona, i Blaugrano sono infatti attesi dal Ceuta per gli ottavi di finale di Coppa del Re. E già di su all'avversaria di turno è del tutto particolare, visto che il Ceuta milita nel terzo livello del calcio spagnolo, la nostra Serie C, si è qualificata a sorpresa per gli ottavi ed è anche attualmente all'ultima posizione nel proprio campionato. Ma le peculiarità della trasferta non si esauriscono qui, visto che Ceuta è localizzata in Nord Africa, trottandosi di una semi-inclave del territorio marocchino, esattamente di fronte a Gibraltarra, con la quale Ceuta rappresentava le antiche colonne d'Ercole. E allora anche il Barcellona ha voluto aggiungere un ulteriore dettaglio particolare a questa trasferta, la squadra è dapprima volata a Malaga da dove si è spostata in elicottero alla volta di Ceuta. Una scelta molto probabilmente legata alla scomodità del viaggio, visto che Ceuta non è dotata di un aeroporto e lo staff e i tecnici hanno voluto evitare il trasferimento in nave, virgola.